Buongiorno e benvenuti da parte di Marco Dallava al nostro quotidiano appuntamento con analisi dei mercati. Come previsto e come ribadito più volte nelle ultime giornate, ieri è stata una seduta davvero molto importante per i mercati finanziari e anche per il mercato valutario, ovvero market mover della giornata di ieri, ma non solo della giornata di ieri, potremmo definirlo market mover sicuramente di quest'ottava, ma probabilmente che, visto quanto è stato ribadito proprio nella giornata odierna, potrà portare e influenzare i mercati anche nelle prossime settimane. L'attesa era proprio per la riunione del FOM, che poi mezz'ora più tardi alle 20.30, per la conferenza stampa di Ben Berneich, durante la quale ha affermato come la politica monetaria di quantitative easing, qualora l'economia dovesse proseguire con questo tasso di crescita anche nei mesi a venire, potrà essere inizialmente ridotto verso la fine di quest'anno e poi successivamente tra circa 12 mesi essere interrotto. Questo ha dato ovviamente innanzitutto una conferma di quelle che erano anche le nostre attese da un punto di vista fondamentale e confermato altresì quello che ci attendevamo appunto sui mercati finanziari e sulle principali valute. A seguito appunto di queste parole del Presidente della Fed, i mercati ovviamente hanno definito un movimento ribassista anche di ampie dimensioni, insomma tutti e tre i principali distini hanno chiuso con un ribasso superiore al punto percentuale. Performance negative ieri poi anche in Europa dove appunto abbiamo registrato una giornata sicuramente in territorio negativo, proseguendo un po' quella che è stata la debolezza delle ultime sedute. Da un punto di vista tecnico ci portiamo appunto sull'SP500, su questo time frame H4 dove possiamo notare come a seguito della positività dove avevamo registrato appunto nelle ultime giornate il mercato si era portato a contatto con 1648, un livello di resistenza piuttosto importante da cui si è definita una correzione come possiamo vedere anche di ampie dimensioni proprio nella giornata di ieri, raggiunto e superato assolutamente con forza anche il primo supporto posto in area 1630 punti. Come vi dicevo poc'anzi ieri debolezza anche sui mercati europei, è davvero interessantissimo è stato ciò che è accaduto proprio sul DAX in quanto si è definito un movimento davvero molto molto preciso. Dopo un primo spike ribassista in apertura di contrattazione nella giornata di ieri abbiamo avuto un ritorno degli acquisti che ha riportato così il future a contatto esattamente con il livello di resistenza di cui avevamo parlato nei giorni scorsi, ovvero 8284 punti. Livelli che come potete vedere corrispondono esattamente proprio al massimo definito nella giornata di ieri da cui è iniziata una fase correttiva che è stata poi di ampie dimensioni, soprattutto con l'apertura in forte gap down che si è definita proprio stamane in apertura poco meno di un'ora fa. Con il movimento che si è configurato appunto nelle ultime ore possiamo vedere come a seguito del nostro segnale short in area 8284 punti il future abbia raggiunto quelli che erano i nostri primi target ribassisti, primo dei quali in area 8100 e successivamente 8080 punti. Come possiamo vedere appunto con questa apertura in gap down il future è andato altresì a superare tali livelli supportivi attualmente si trova in area 8056 punti. Non escludiamo che il movimento possa proseguire a ribasso anche nelle prossime ore arrivando così a testare una successiva area di supporto posto tra 8000 e 10, 8000 punti. Prosegue la tendenza ribassista anche sul nostro future principale, sul nostro Fuzzimi, a seguito del test della resistenza passata a 16300 punti. Abbiamo più volte definito come il mercato fosse ancora orientato a ribasso e lo sarà fin quando appunto non verrà superata la resistenza passata a 16430 a 16460 punti. ecco, ieri la chiusura è come potete vedere è stata in area 16020 punti, ecco attenzione perché nella giornata di oggi a seguito anche della debolezza di Wall Street potremo avere un nuovo movimento ribassista che potrà così condurre il nostro future principale a raggiungere i target ribassisti evidenziati 15625, 15500 e 50. Interessantissimo sicuramente quello che è accaduto ovviamente ieri anche sul mercato valutario, seguito anche qui delle parole di Ben Bernick che hanno portato quello che ci attendevamo e di cui avevamo parlato ormai da parecchi giorni, ovvero un rafforzamento della divisa americana nei confronti un po' di tutti i principali cross, quindi di tutte le principali valute. Questo è accaduto come potete vedere in maniera davvero molto precisa anche sull'euro-dollaro a seguito del movimento ascendente intercorso nelle ultime settimane, ieri abbiamo avuto un forte movimento ribassista sulla moneta europea che ha così raggiunto un primo livello supportivo in area 1,32 e 36, quindi definendo già un movimento correttivo che è stato quasi di due figure a ribasso rispetto ai massimi definiti proprio alla vigilia. Quindi 1,32 e 36 primo livello supportivo come più volte già ribadito, insomma attenzione perché la correzione potrà assumere poi nelle prossime sedute anche dimensioni maggiori e riportare così la valuta europea successivamente poco sopra area 1,31 e non escludiamo un approdo anche fino in area 1,30. movimento discendente molto accentuato anche sul cable, già iniziato alla vigilia e proseguito anche nella seduta di ieri, movimento davvero molto direzionale che ha portato così il cross valutario a raggiungere una prima area supportiva piuttosto importante 1,54 e 62 livello che è già stato testato nella serata di ieri, attenzione soprattutto 1,53 e 76, un successivo supporto che a mio avviso verrà testato proprio dal cross valutario nelle prossime ore e da qui si potrà definire quantomeno una fase di rimbalzo. Altro movimento molto interessante è quello che si è configurato questa volta in ottica rialzista su dollaro americano contro Franco Svizzera, anche qui era un cross che analizzavamo ormai da più giorni e abbiamo evidenziato le possibilità per assistere ad una fase rialzista con primo obiettivo posto in area 0,93 e 21. Possiamo vedere anche in questo caso come il movimento sia stato davvero perfetto proprio nella serata di ieri e 0,93 e 21 corrisponde esattamente al massimo raggiunto ieri. Questo è sicuramente un primo livello di resistenza in caso di superamento, ecco questo aprirebbe spazio poi per un'ulteriore salita fino al successivo obiettivo rialzista. Altro movimento molto interessante di cui avevamo parlato anche qui nei giorni scorsi che si era già definito nelle precedenti sedute su euro contro yen. Proprio nelle ultime ore è stato raggiunto a seguito del segnale rialzista di cui avevamo parlato poco sotto aria 125 e raggiunti i primi target minimi 128,53, 128,80. Come potete vedere anche dal grafico, ecco attenzione perché non è detto assolutamente che il movimento possa terminare qui e si possa definire una prosecuzione del rialzo fino alle successive resistenze evidenziate. Andiamo ad analizzare anche i dati macro più importanti per la seduta odierna. Sul fronte europeo attenzione soprattutto alla pubblicazione dei vari PMI manifatturieri europei che potranno portare nuova direzionalità anche sui cross valutari e ovviamente nello specifico sulla valuta europea. 10,30 vendite al dettaglio del Regno Unito su base mensile dove ci si attende un incremento e successivamente poi dovremo spostare la nostra attenzione su Wall Street. 14,30 sussidi di disoccupazione rivisti in leggero aumento rispetto a 7 giorni fa, PMI manifatturiero in pubblicazione alle ore 15 e successivamente un'ora più tardi da monitorare soprattutto il dato relativo alle vendite di case esistenti e all'indice manifatturiero di Philadelphia. Anche un altro dato importante, sempre in pubblicazione alle ore 16, il super indice rivisto leggermente in calo. Bene, per oggi è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e buon trading a tutti!